La tragica fine di Fili Keita ha suscitato enorme commozione e adesso la Croce Rossa italiana vuole aiutarlo a tornare a casa. Come? Allora, innanzitutto questo ragazzo ha lasciato il segno, come avete detto bene voi, perché è stato amato veramente da tutti i volontari. Poi è stato un esempio di altruismo e di generosità. Questa generosità ci spinge a chiedere aiuto per poterlo rimandare a casa, perché in questa situazione sarebbe stata sicuramente la sua volontà, quella di tornare a casa da una moglie che lo aspettava e soprattutto da un bambino che nascerà tra due mesi. Quindi il nostro appello è per cercare di mettere insieme le risorse per affrontare questa spesa abbastanza importante che ci permetta di accompagnarlo fino a casa. Questo per noi è quello che sentiamo di dover fare, proprio perché lui ci ha insegnato a essere generosi e altruisti. Pensate che lui è stato un volontario di Croce Rossa nel periodo del Covid, quindi in un periodo veramente in cui c'era bisogno di tanto e di tutti. E lui senza nessun dubbio si è fatto avanti fino poi a formarsi completamente e diventare un volontario del soccorso a tutti gli effetti. Come possiamo aiutare per poter far rientrare la salma al suo paese? Allora, Croce Rossa ha lanciato un appello di raccolta fondi sui social, sui giornali. Troverete tutte le istruzioni con l'Iban presso cui si può versare denaro, versare e fare bonifici, con una causale ben precisa che è quella di aiutiamo fili a tornare a casa. La cifra che andremo a raccogliere, quella che sarà in eccesso speriamo, la doneremo alla famiglia in Mali, quindi alla moglie e al bambino che arriverà. Perché tra due mesi fili sarà papà e quindi noi saremo vicini alla moglie e al bambino sicuramente.